Hanno agito con tutta tranquillità, complice il buio, sapendo bene dove colpire e cosa rubare. Ne è convinto il titolare dell'Alme di Via dell'Artigianato a Rosà, Angelo Alberti, 46enne di Pove, vittima dell'ennesimo colpo in azienda, rubati nella notte sette quintali di bronzo, caricati con un muletto su un camion della ditta di lavorazioni meccaniche, su cui si sono dileguati un bottino che si aggira sui 7.000 euro. Sono venuti sapendo che c'era, credo, e si sono caricati il tutto nel nostro camion e quando hanno finito di fare il loro lavoro si sono portati via anche il camion. Hanno divelto la porta d'accesso, sono entrati, hanno fatto questa cosa, dopo hanno scassinato la macchinita alle bevande, tolto le monetine e dopo se ne sono andati. Hanno inserito la corrente, si sono aperti i portoni e sono usciti. Infatti noi questa mattina abbiamo trovato il portone aperto. L'azienda non è dotata né di antifurto né di videosorveglianza, quindi è difficile da definire anche l'ora del colpo. Per Alberti un copione che si ripete. Non è la prima volta che viene presa di mira la sua azienda? No, è iniziato, appena trasferito in questa zona, sono venuti due volte. La prima volta si sono presi il bronzo all'esterno dell'azienda. Noi imparando dal fatto che abbiamo portato all'interno, hanno deciso di entrare e si sono portati via tutto il bronzo dall'interno dell'azienda. Sempre inserendosi l'energia elettrica, facendo come fosse la casa loro. Ma secondo lei siete tenuti sotto controllo? Voi come le altre aziende del comprensorio? Sì, perché se loro annusano che tu lavori materiali più o meno nobili, loro sicuramente tengono d'occhio per vedere quando venire e quando sicuramente ci osservano.